I look at you and it's easy to see, you are that someone I've been trying to meet Ciao a tutti e bentornati, allora in questo riassuntone andremo a parlare di diversi personaggi partendo da Fabrizio Oss, che ieri a gran sorpresa è tornato con un nuovo video dal titolo Calogero, ho deciso di rispondere al tuo appello e tu, Dama Nera, ancora continui con questa storia? In pratica, questo video di Oss è un video reaction alla live del suo antico amore, e cioè la Dama Nera Quindi Oss era a casa, aveva un po' di tempo a disposizione, si è messo ad ascoltare la live ed ha ascoltato anche lo sclero di Dama, contro chi? Contro la Dama Bianca, per cosa? Per i pezzi di video che ripubblica nel suo di canale, è venuto a conoscenza così anche dello sfanculamento di Lori Dark dal canale di Dama Nera, perché? Perché l'ha beccata a commentare sotto il canale della Dama Bianca. E già questo non è poco, ma si va ad aggiungere anche un'infelice uscita da parte di Calogero, che pubblicamente ha affermato che se dovesse cambiare una morta di fame, riferito a Dama, per un'altra morta di fame, a questo punto resta con Anna. Frase che il nostro osservatore ha trovato terribile, almeno quanto il non intervento degli utenti presenti in quel momento in live. La frase di Calogero continua con un «Al limite me ne trovo una giovane, benestante e alta», ponendo quasi la cosa sotto forma di appello, appello a cui Fabrizio risponde positivamente, dicendo che è disponibile, è single, è giovane, è matto, ecco. E poi Fabrizio, rivolgendosi direttamente a Dama, le dice «Ma un po' di amor proprio, non ce l'hai che ti fai trattare in questo modo? Ma mollalo!» e conclude il video dicendo che il comportamento di Dama appare sempre molto losco e quindi per lui non gode della minima credibilità. Soprattutto dopo il suo breve video dove ha mostrato la cameretta del figlio, che appariva spoglia e inabitata, perché mancavano oggetti di uso comune, tipo il cuscino, dei libri scolastici o comunque oggetti che facciano pensare che in quella stanza ci dorma qualcuno. Secondo Fabrizio, quello che appariva più che una stanza dove ci dorme un ragazzo, appariva come tipo un ripostiglio, in cui, guarda caso, proprio quella sera si era anche fulminata la lampadina, lasciando la stanza totalmente al buio. Bene, e questo era il breve video di Fabrizio Oss dedicato alla Dama, mentre nel pomeriggio, sempre di ieri, c'è stata anche una live sputtanamento nel canale di Faith. Dal titolo, sputtano Chiara ad Alessandro per la millesima volta, con prove. Faith inizia la sua live col commentare la storia della fantomatica email ricevuta da Chiara, muovendo forti dubbi sulla reale esistenza della missiva. Perché? Perché, in caso contrario, Chiara l'avrebbe subito piazzata nella sua community, come del resto ha sempre fatto con tutte le altre email pervenute. Rigetta Faith l'accusa di aver diffuso la faccenda della data dell'udienza, addebitando, invece, a Chiara il tutto, dato che, in diverse live, ricordava alla sua utenza che a gennaio ci sarebbe stato un provvedimento legale, portando a pensare con vari riferimenti che si trattasse proprio di Giuseppolo. E proprio di Giuseppolo, Chiara ha affermato di non sapere che con Veronica erano fuori da quel supermercato a mendicare. Peccato, però, che a dimostrare il contrario c'è un video di Chiara, prontamente rimosso, dove racconta che un suo utente le aveva inviato un breve video che ritraeva Giuseppolo e Veronica intenti a chiedere l'elmosina. Quindi questo smentisce il fatto che lei non sapesse. E tutto porta a pensare che l'incontro sia stato programmato e non casuale. Come le chat in cui, sotto mentite spoglie di suddetta Ramona, flertava con Giuseppolo per poi scrinnare la conversazione e inviare il tutto a Veronica per farli litigare e quindi magari anche lasciare. Sempre di Veronica, Faith fa ascoltare pezzi di live di Chiara, dove con estrema cattiveria dice che Veronica è rimasta incinta ben quattro volte di Giuseppolo, ma tutte le volte ha perso i bambini perché faceva uso di stupefacenti. Faith sottolinea il livore che Chiara ha sempre avuto nei confronti di Veronica, solamente perché lei è riuscita a conquistare il cuore di Giuseppolo, mentre da lei praticamente è scappato a gambe levate. Poi, sempre in merito alla faccenda della denuncia di Chiara nei confronti di Giuseppolo, Faith ricorda che quando era ancora in buoni rapporti con Chiara, Chiara le aveva inviato la foto di questa denuncia che aveva sporto, però Faith per tempo e per mancata voglia praticamente sta cosa non l'aveva mai letta. Poi, ascoltate le due versioni contrastanti, quelle date pubblicamente sia da Giuseppolo che da Chiara, ha deciso di recuperare questa foto dove era praticamente impressa la denuncia e di andare a leggere i dettagli della stessa. Quindi, nella parte finale della sua live, Faith mostra parzialmente coperta la denuncia che Chiara le aveva inviato come prova. E leggendo con attenzione gli estremi della denuncia, Faith si è resa conto che il tutto era basato sulle sole dichiarazioni di Davide e Chiara, senza quindi né prove né testimoni. E per tale motivo, Chiara si è procurata delle prove ed esattamente come fu per Dennis, ha registrato delle conversazioni avute con Veronica e le ha estrapolato varie confessioni. Pertanto Giuseppolo è diventato l'artefice delle email con minacce di morte che praticamente riceveva Chiara ed era sempre Giuseppolo che con i fake, i mille suoi fake, andava sotto le live di Chiara e praticamente le dava fastidio. E ancora Giuseppe, colui che praticamente era andato a fotografare il portone di casa di Chiara. Ecco, in pratica mancava solo che confermava che fosse stato Giuseppe l'artefice anche dell'attentato delle torri gemelle del 2001 e c'eravamo. Inutile dire che data la condizione di Veronica, queste dichiarazioni valgono a ben poco, però c'è da sottolineare il fatto che comunque la Chiara si era procurata questo tipo di prova. Bene, e questo è tutto quello che è successo ieri e c'è la live di Faith, il video di Osservatore, mentre oggi c'è stata una nuova live di Faith e una live di Senz'Anima, dove, se non erro, il filo conduttore, il fatto che Chiara tramite fake praticamente cosa fa? Vada ad attaccare quelli che sono i suoi nemici del momento, si fa i complimenti da sola e voi direte, beh, nulla di nuovo sotto il sole, che poi effettivamente non vi si può neanche dare torto, perché comunque è un qualcosa che capita abbastanza spesso. Bene, quindi anche questo ennesimo riassontone volge al termine con la promessa di Osservatore che si farà sentire più spesso, anche perché la sua utenza lo reclama a gran voce, con la Faith che è per l'ennesima volta sputtana Chiara con prove tangibili e oggettive e la Chiara, non sappiamo se anche in questa occasione, eviterà di rispondere o aprirà l'ennesima live buasta. Beh, non ci resta che attendere, questo ce lo dirà solamente il tempo. Per ora io vi auguro buona continuazione di serata, data l'ora e vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto. Un bacio a tutti da Gossi. Grazie. 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 Grazie.